Gianfranco Pascucci, noi sappiamo che qui ci sono dei supereroi, lei è venuto qui per vedere questi supereroi in azione? Sono venuto qui perché ho avuto modo di collaborare con la BMV in un paio di occasioni, in una di queste si parlava di questo progetto che a mio avviso è bellissimo, il nostro tra l'altro consulente stampa è un non vedente, un caro amico che già aveva provato a fare una cosa del genere e allora abbiamo detto così in due parole tra amici praticamente di incontrarci qui sulla neve quindi ieri ho fatto un piatto per una scena che c'è stata, Salvatore oggi ha preso per la sua volta l'asseggiovia io pure ovviamente non per la prima volta però mi sono divertito molto e da un incontro tra persone nasce un incontro più comunitario credo che tutti noi abbiamo bisogno di opportunità, abbiamo bisogno di capire come sono grandi le persone e quanto sono grandi quindi questo è un punto per poter vedere quanto sono grandi le persone, quanto siamo grandi tutti noi magari, tutti insieme e credo che sia un grande giorno questo qui, un giorno interessante, è un grande giorno pensando che ce ne sono tantissimi così e quindi è stato un grande giorno per me perché è stato il mio primo giorno, però pensare che ogni giorno ce n'è uno così credo che sia una grande cosa Vedere questi supereroi che emozioni le ha portato? Ma io non so il fatto del supereroi, io ho visto delle persone diversamente abili che fanno delle cose che io non riuscirei a fare e quindi l'impressione che è stata è una grande forza, una grande voglia di poter fare, di non fermarsi mai e soprattutto di non darci mai l'opportunità sbagliata di essere annoiati di essere sufficientemente paghi di quello che abbiamo ecco questo è il pensiero di adesso, poi magari faccio un'altra sciata, c'è un altro, che ne so perché qui è figo, è divertente, si ride, si scherza, cioè è bello sta cosa